Volevo solo dire come avevo detto anche una sera al corso l'attività che facciamo con le scuole vabbè forse io sono un po' condizionato perché faccio questo ma credo che sia una delle più importanti perché è quello che ci dà modo di guardare un po' avanti e quindi a maggior ragione colgo l'occasione per ringraziarvi e per dirvi non mollateci perché come diceva anche lui non finisce qui anzi siamo appena all'inizio fra qualche mese ricomincerà l'attività e noi avremo comunque sempre bisogno di voi e come ha detto Raffaele vi siete messi in ottima luce insomma quelli che sono venuti con me io ho anche preparato una relazione da ho già passato ho già passato dove mi dichiaro molto non può essere vero tutti quanti voi quindi aspetta un attimo non interrompermi comunque non mollateci un'altra non avremo bisogno di voi abbiamo bisogno di mettere metterci in evidenza la FIE deve rendersi visibile e uno dei principali dei modi fondamentali è quello di essere presenti nelle scuole quindi siate con noi grazie ok